Antonio Carannan! Professor, dovete trapiantare il cuore di Antonio nel petto dell'uomo che lo vendicherà Ce l'ho! Giovane, forte, nex pugile è l'uomo perfetto Ma chi è? Ma che si fa lei qua? Addio, che brutta domanda in questo momento Un cuore nuovo Quello che vi ha donato il cuore ammazzava le persone Oddio mio, un killer Bravo, killer Que killer, killer Una nuova vita Ma no, c'è il cuore del barbiere Chi non è una specie di Escobar? Addirittura Escobar Un po' folle Le presento il suo donatore È vivo Intendo la famiglia del suo donatore Ando, come stai? Si fa fino a Vettor Franco Sinatra Come mai? Ha una bella voce, canta bene Ando, come stai? E a me come madruno Molto spericolata Se non ammazziamo a mangiacarmi Mi desci poco a rapietto Lo metto nel petto di qualcun altro che lo farà a posto qua E piena di sorprese Vengo al suo ristorante domani mattina sei in mezzo in punto Con una parola d'ordine Ho pensato qualcosa tipo Il cappiano spiega le ali all'alba Che ne pensa? Vogliava Chi vuoi essere? Quello calpestato da tutti? O quello rispettato da tutti? Onesto Nufis Dopo il successo di una festa esagerata Io chiamo Gessemina Ma dove hai trovato? Internet Questa deve essere Amazon No, questa è Amazon La nuova commedia di Vincenzo Salemme Con tutto il cuore Uno, le supposte Ma poi che nome c'hanno? Top Long Preferivo Top Larg Solo al Cina Solo al Cina